Bella tutti ragazzi, io sono Fasino 11, oggi siamo con Deathstalker, una mia amica, oggi siamo qui per unboxare, unboxare che? Beh, i miei legali, e nella commenta, allora, il primo, che userò soprattutto nei video, è la cosa per illuminare, per fare TikTok, no? Poi si mette il telefono, poi si illumina, con tutti i colori, esatto, questi colori, e ci sono anche altre variazioni, questa qua è, poi, sempre per la stessa cosa abbiamo il tre piedi, cioè, molto lucidato, bello, liscio, vabbè, e poi, e poi, il telefono, ah, mi ho comprato un nuovo telefono, questo telefono è super buono, si chiama Poco M4 Pro, non so se voi lo conoscete, ma è il telefono super buono, che adesso con voi lo apriremo, allora, allora, ci servono delle forbici, non da questo, eh, non da questo, ah, vediamo, mi vado a prendere delle forbici, allora, è tutto giallo, quindi penso che sia giallo, no? qua ci sono tutte le definizioni, tra cui, ah, no, è blu, è blu, credo, 8 gigabyte RAM, 256 gigabyte room, rom, ed è super buono, ragazzi, è super veloce, eh, quindi, c'è anche, quindi, non, ho visto su, alcuni siti, non costa così tanto, l'alergia ha preso la forbi, come stia? tipo da lato, ok, ok, allora, eccolo qua, allora, la cover, cioè, qua è super liscio, il tessuto, apriamo, vediamo, 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 oh, ole, 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 attenzione, ok, ecco, un'altra cosa, e, come stia? allora, come stia, per stambana? ok, no, ma, è questo? non lo so, lo vediamo no, no, ok, sì ah, la cover, o la pellicola? no, no, la cover, la cover allora, ragazzi, ecco la cover ora la vediamo eccola, bellissima sono mezzo coglione e questo è il nostro terzo per fortuna non c'è fatto niente a 30 camere guardate precisamente 5 5 5 camere, ragazzi, è meglio te ne fanno sto conto aspetta, aspetta con calma, eh, ne avevano già fatto vedere sono un coglione sono stupidi wow, bellissimo un attimo non si è fatto proprio niente ci sta un'etichetta questo è il colore, ragazzi blu opaco bellissimo infatti, c'è, è super liscio lo schermo è bellissimo si vede anche il tavolino, guardate ma è proprio bellissimo mi hanno fatto un regalo che è stupendo adesso lo mettiamo qua ok bene se l'ha seccato in bocca perché? sei un ostaggio? sì ah aspetta è pure un dietro il tipo il carico abbatte ragazzi il carico abbatte lì bellissimo allora allora, vediamo un po' grazie è difficile da aprire prova tu aspetta insomma no 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 questo è il primo pezzo un po' come se è la testina ecco non togliere la pellicola perché se può se cade ecco e questo è il cavo sul cavetto e quindi abbiamo abbiamo le buschette è super attrezzato io apro le buschette adesso ragazzi no no apri le buschette vabbè c'è solo che vendono così eccole qui le buschette ecco tini le buschette la cover è questa qua esatto il telefono dove l'hai messo è proprio aspetta aspetta mettiamo la cover perché tipo ah no è proprio così sì sì è proprio così ora devi mettere le pellicole ecco ma che strano questi di sempre stanno giù vanno sotto e vabbè bellissimo ce la fai? sì sicura? no da me papà dammi il telefono mi si è attaccato un pezzo di plastica alla mano è dura da mettere ecco qui ragazzi ecco il telefono con la cosa diventa molto più liscio ok adesso possiamo alla parte più grande allora regoliamo il telefono come si è attaccato cosa del telefono? tutta la fornita ecco qui il telefono mette un po' più qua ah sì sì ho sbagliato a dire stiamo allora iniziamo subito ad aprire questo non so io non so io inizia ad aprire le altre cose cioè prendi apri lo scatolo poi questo è il colpo c'è un pezzo qui che quella fa e ragazzi no devo devo vedere letti di plastica devo vedere come va questa cosa con i miei video andrà bene andrà bene fidati farvi veramente ok vabbè mi figlio sicuramente credo un po' sento qui nel senso che io non ce l'ho non l'ho mai trovato quindi ok ecco montato i tre piedi ragazzi mi serve una fornita un po' ma là dove la pesa ragazzi ragazzi è un po' storso oddio dove ce l'ho tenuto allora eccolo qui io ne metto un attimo altre piedi ma ne metto un po' e no devo stringere questa parte ok intanto calcio ragazzi quasi fatto ed ecco qua cosa si alza fai quasi sei un cretino lo so ed ecco qua la luce la possiamo anche collegare ora eh sì per esempio che lei le prese basta che facciamo ok questa è un'altra cammino questa è la luce qua posso mettere il telefono e fare tutte le riprese guardate ragazzi che bella questo è questo è un piccolo telecomandino dove fare allora ci sono tutti i comandi praticamente accendere spegni cambiare colore eccetera eccetera sì se portiamo e poi c'è un fatto che non sappiamo cosa si ma secondo me non ti hanno sentito nessuno di venire più di fina da ti sto allora eccomi allora secondo me che avevo detto il telecomandino serve per accendere e spegnere la lampada oppure per cambiare il colore e ragazzi giuro sono tantissimi colori dopo lo vedremo con voi facci comunque sono stupida montoglio 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 prima o poi miglioreremo ragazzi sicuro sicuro nel senso con sta lampada è normale che miglioreremo comunque ragazzi io ho montato questo però fasi dobbiamo alzarlo no no questa altessa va bene sì sì va bene ok eccolo qua buono anche per fare tipo il ballet eccetera eccetera ragazzi è maestoso questa cosa vi volevo dire ragazzi questo qui spostiamo un attimo la lampada ok questo qui ragazzi serve ecco qui è un treppiedi da mettere sui davanzali piccoli tipo lo apriamo ecco ce l'ho pure ringraziato sul bigliettino sì un po' troppo largo secondo me giusto un po' troppo tipo così allora questo invece è per non utilizzare tutto la lampada e per metterci anche la gopro il pezzettino eccolo qua ora lo andremo a montare vai è super facile montare la sua cosa esatto perché devi solo abitare ora chiudo un attimo questo e poi inizia a collegarlo ok e io userò ovviamente il nuovo coso perché sono un bambino intelligente molto intelligente e poi raga io sto qui a terra a montarlo ecco come vedete vabbè penso sia abbastanza sta bene ben montato ragazzi allora ok telefono così ok dovrebbe andare così oddio ragazzi dopo vi faremo vedere la lampada oh ragazzi mi sono accecato che paura allora accecamento metti così tanto dopo la prendiamo ok è perfetta comunque la mettiamo questa è tipo per portare ah si vuole la rilucia eh si oh che figuata raga si vede dalla faccia vabbè ragazzi ragazzi purtroppo quel video si è interrotto perché abbiamo dovuto infilarlo bene ora cioè raga noi siamo di fronte alla lampada ma non cosa succede se aumento la ragazzi sono finiti i tasti c'è anche questo non so cos'è non so cos'è vabbè ragazzi comunque il video è finito qua ciò ciao 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 ciao